Emilia Marini parla con i lacrimi agli occhi, raccontando i 43 anni di vita trascorsi dietro il bancone dell'atelier J, nella zona di Portalborgo, a Pistoia. Uno nei negozi storici della città, soprattutto per gli abiti da cerimonia femminili, che a fine anno, al termine di un periodo di svendere, chiuderà definitivamente i battenti. Dopo 43 anni lascia la sua attività. E come mai? Perché sono sola, non ce la posso, non ce la faccio, perché gli impegni sono tanti, diciamo non solo che è quello della vendita, ma c'è da curare le collezioni, le aziende, le mostre, le sfilate, pubblicità, in genere, insomma, sono tante cose da seguire. Si tratta dell'ennesimo negozio storico di Pistoia, che accesserà l'attività legato, sin dalla sua origine, a TVL. Quando anche la nostra emittente muoveva i primi passi, infatti, J fu tra i primi clienti che credettero nella televisione, investendo in pubblicità. A differenza di altre situazioni cittadine, la ragione della chiusura di J non è imputabile a crisi o a problemi nelle vendite. Gli ordini in lavoro vanno bene, ci ha raccontato Emilia, ma quello che manca è qualcuno che dopo questi 43 anni possa prendere in mano l'azienda. E allora, come mai non hai trovato chi ti poteva aiutare, poteva con te condividere questo percorso? Non ho trovato le persone che praticamente non sono adatte, non sono, non li piace forse il lavoro, non lo sentano, bisogna essere anche veramente, diciamo, deve piacere questa cosa qui e metterci tanta passione. Qual è il ricordo più bello che hai di questi tuoi 43 anni? Un ricordo bellissimo di tutte le mie clienti, perché ancora oggi mi vogliono tutte bene, si fidano molto di me, perché comunque ho lavorato onestamente e seriamente. E quindi ho un rispetto e un affetto dalla loro parte che veramente mi fa emozionare a volte. Perché qualche luna, qualche cliente che ho detto che forse avrei dovuto chiudere perché non è più possibile, diciamo, andare avanti, si sono messa anche a piangere. E quindi mi sono emozionata molto. E adesso inizia un periodo, quindi, di svendita, però in che modo? In che modo? Diciamo, l'attività prosegue sempre nello stesso modo, con le stesse cose, con la stessa professionalità, di vestire ogni persona per il ruolo che ha, seguiranno poi le sue correzioni, diciamo, dovute, prove, eccetera. E sempre, diciamo, la cosa si svolge sempre nella stessa maniera, non perché svendita praticamente deve essere buttato lì. Si prende ancora gli appuntamenti perché comunque sia la persona, una mamma che accompagna il figlio all'altare, vorrà essere seguita e vestita a regola d'arte, non perché a svendita si deve, diciamo, sminuire questa cosa.